Dal Vangelo secondo Marco Una buona domenica a tutti. Se c'è un tema attuale su cui vale la pena riflettere alla luce del Vangelo è il momento che sta attraversando nella nostra società l'istituzione familiare. Il quadro che oggi viene tracciato dai sociologi lo sappiamo è preoccupante e non è nemmeno necessario ricorrere ai loro studi perché la realtà è sotto gli occhi di tutti. Ci si sposa sempre meno, sempre più tardi, si fa un figlio al massimo due e è crescente. La percentuale ed è molto alta quella di coloro che non vogliono nemmeno sentir parlare di impegnarsi in un progetto che è quello di farsi una famiglia. È la preoccupazione che hanno tanti genitori che si ritrovano i figli quarantenni in casa. C'è addirittura chi parla di una società che si sta formando che è post-familiare, cioè la famiglia tradizionale avrebbe fatto il suo tempo, sarebbe un retaggio del passato. Oggi le famiglie che vanno di moda, quelle che ci vengono presentate dai mass media come normali, anzi come moderne, non sono quelle tradizionali ma sono le famiglie allargate dove ci sono più papà, più mamme, fratelli, fratellastri che comunque vivono sereni e felici. E questa immagine è pericolosa ed è anche falsa perché il divorzio è inutile che ce lo nascondano. Resta comunque sempre un fallimento, lascia ferite, tracce profonde in chi è coinvolto, soprattutto nei figli. Ma è questa l'immagine che i mass media tentano di far passare come la realtà del futuro. In questo contesto chi crede ancora nel valore dell'amore sponsale incondizionato e definitivo prova un certo disagio, si sente come chi non ragiona, non vive al passo con i tempi. Sempre a livello dei mass media, come viene presentata la sessualità, come deve essere vissuta? Credo che la norma più recepita sia questa. Ognuno ha il diritto di esercitare il sesso dove, come e con chi preferisce. Basta che le persone coinvolte siano consenzienti, si diffonde così nella società una mentalità permissivista per cui tutto è bene, tutto è lecito, la norma, ciò che piace. Quindi bando alle inibizioni, ai sensi di colpa, sono cose inventate dalla religione. Immaginiamo un dibattito televisivo in cui qualcuno osi avanzare qualche riserva su queste scelte come verrebbe etichettato. Oscurantista, bigotto, sessuofobo, medioevale. Ecco, la prospettiva che abbiamo davanti per la società futura. Chiediamoci, questo approccio alla sessualità. È corretto o è pericoloso? Ci umanizza o ci fa regredire? Ecco l'importanza per noi credenti di sapere cosa pensa Gesù al riguardo. Poi rispetteremo tutti gli altri modi di pensare o di vivere, ma è importante che il credente interiorizzi il pensiero di Gesù di Nazareth e testimoni con la sua vita che la verità che ci viene presentata nel Vangelo dà risultati di gioia e di amore. Sentiamo chi apre il discorso sull'argomento. Alcuni farisei si avvicinarono a Gesù e per metterlo alla prova gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. La domanda posta a Gesù dai farisei sembra quella che circola anche oggi. Divorzio sì e divorzio no. Oggi si aggiunge rapporti prematrimoniali sì, rapporti prematrimoniali no. Convivenze sì, convivenze no. E distinguono anche fra i preti moderni e quelli non moderni. Per essere al passo con i tempi tu devi subito rispondere sì, altrimenti sei un retrogrado. Su questo argomento le persone hanno già le loro convinzioni ben definite e in genere non le vogliono rimettere in discussione. E non vale nemmeno la pena discutere perché si finisce poi per alzare la voce per offendersi. Per quale motivo? Perché ci si arrocca in questo modo sulle proprie posizioni. Perché prima di rispondere è necessario chiarire la concezione che si ha del rapporto uomo-donna e della sessualità. Cioè che ci si chieda per quale ragione Dio o la natura ha voluto l'umano maschio e femmina. Con quale obiettivo? Va chiarito quindi il punto di riferimento, altrimenti si parlano lingue diverse e nessuno è disposto a rimettere in discussione le conclusioni a cui lui è già giunto. E difatti notiamo come Gesù non dà la risposta sì o no. Vuole far uscire la verità da dentro. Voi siete uomini, siete degli umani. Lasciate venire fuori dalla vostra natura più profonda il senso del rapporto uomo-donna autentico, quello che la tua natura umana vuole. E difatti notiamo che invece di dire sì o no. Gesù fa una controdomanda e vuole aiutare i suoi interlocutori a scoprire e ad accogliere il disegno di Dio sulla sessualità. Sentiamo cosa chiede loro. Gesù rispose loro che cosa vi ha ordinato a Mosè? Dissero, Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Il divorzio al tempo di Gesù in Israele era permesso, lo sappiamo, e il testo biblico a cui si faceva riferimento per giustificarlo era il capitolo 24 del libro del Deuteronomio, dove si dice che un marito che ha vissuto con la propria sposa, ma un giorno trova in lei qualcosa di sconveniente, ervat davar in ebraico, allora deve scrivere per lei il documento di ripudio e rimandarla. E la donna che ha ricevuto questo documento può risposarsi e fare figli legittimi. Il testo di Mosè quindi era a protezione della donna perché se lei si fosse allontanata senza quel documento in mano il marito avrebbe potuto denunciarla come un'adultera e potevano lapidarla. A protezione della donna Mosè aveva stabilito che chi ripudiava la propria sposa doveva darle questo documento per lasciarla libera. Nella Misna vengono presentate le discussioni dei rabbini riguardo a quel dettaglio, cioè qual è la ragione che può permettere a un uomo di ripudiare la propria sposa. C'era Rabbi Shammah il quale insegnava che non si poteva ripudiare la moglie tranne che nel caso che lei avesse avuto un comportamento immorale. Rabbi Hillel invece era più aperto e diceva che poteva divorziare anche se lei aveva rovinato una pietanza. E poi Rabbi Achivah il quale insegnava che poteva ripudiarla anche se ne aveva trovato un'altra più bella di lei. Comunque tutti ricordavano la riprovazione del divorzio pronunciata dal profeta Malachia. Siamo alla fine del quinto secolo avanti Cristo. Nel contesto di una lunga requisitoria del profeta che denuncia le malefatte dei sacerdoti di Gerusalemme a un certo punto dice c'è un'altra cosa che voi fate ancora. Voi coprite di lacrime, di pianti e di sospiri l'altare del Signore sul quale voi offrite i vostri sacrifici e Dio non guarda le vostre offerte, non le accetta dalle vostre mani. Per quale ragione? Perché il Signore è testimone fra te e la donna della tua giovinezza che tu hai tradito, mentre lei era la tua compagna, la donna legata a te da un patto. E conclude dicendo perché io detesto il ripudio, dice il Signore Dio di Israele, detesto il ripudio. Tutti conoscevano questo testo e il Trattato del Talmud che parla del ripudio si chiude riportando l'opinione di Rabbi Eleazar, il quale diceva che il divorzio è una misura estrema, un malanno che va evitato perché quando c'è un divorzio piangono perfino le pietre dell'altare del Tempio. Quale risposta danno i farisei a Gesù in questo contesto sociale? Rispondono, Mosè ha permesso di scrivere l'atto di ripudio. Gesù aveva chiesto cosa vi ha ordinato, non cosa vi ha permesso. Mosè non ha mai permesso niente, il divorzio esisteva e Mosè ha voluto proteggere la donna mettendo la norma che se voi divorziate le dovete dare il documento del ripudio. Voi vedete alle mie spalle le Ketuvot, cioè il documento che viene letto nel momento del matrimonio, il documento che poi viene firmato dagli sposi e dai testimoni. Lì ci sono gli impegni che si prendono. Notate come queste Ketuvot, come sono chiamate, sono degli inni alla vita, ci sono fiori, grappoli. Anche Chagall ne ha dipinte alcune e in queste Ketuvot tutto parla di gioia, di amore responsabile benedetto dal Signore. E adesso notate una Ketuvot e un Sefer Ketuvot, il documento di separazione, di rottura, come dice il termine ebraico, la rottura di un patto d'amore. Mentre le Ketuvot sono inni alla gioia e alla vita, il Sefer Ketuvot è un freddo formulario da riempire, lo si ritira quando si va a chiedere il divorzio. Ed è scritto in ebraico corsivo, non la grafia ebraica che noi troviamo nei codici della Torah, perché la grafia sacra non può essere usata per scrivere un Sefer che ritutte. Adesso, basterà osservare l'ordine di Mosè per sentirsi in sintonia col disegno di Dio sulla sessualità? Sentiamo la risposta che dà Gesù. Gesù disse loro, per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Gesù ha chiarito che Mosè non ha dato il permesso di divorziare, ma ha posto una norma a protezione dei diritti della donna. E qui aggiunge la ragione per cui ha dato questa disposizione, per la durezza del vostro cuore. Voi divorziavate e, duri di cuore come siete, dimenticavate i diritti della donna e Mosè ha voluto proteggerla. Ma adesso cerchiamo insieme, dice Gesù, qual è il disegno del creatore sulla sessualità. Poi valuteremo, a partire da questo disegno del creatore, quali comportamenti rientrano e quali invece esulano da questo progetto. Concretamente vedremo se il divorzio rientra in questo disegno del creatore. C'è una realtà biologica della quale dobbiamo cercare di scoprire il senso ed è il fatto che ci sono due modi di incarnare l'essere umano, come maschio o come femmina. E questa è la grande diversità che noi riscontriamo nell'umano. Di fronte ad essa tutte le altre diversità sono marginali, essere belli o meno belli, intelligenti o meno intelligenti, bianchi o neri, cinesi o europei. Sono diversità molto marginali. Perché Dio ha voluto l'umano maschio e femmina. Lo riscontriamo subito nella natura. Gli ha voluti così perché li ha fatti bisognosi l'uno per l'altro, li ha fatti complementari. Ognuno scopre nell'altro la parte di cui ha bisogno per essere pienamente se stesso. Il testo della Genesi chiama questa condizione nudità. I due erano nudi e non provavano vergogna. La nudità è la condizione nella quale l'uomo nasce e nasce non autosufficiente. Questa è la sua natura. Ha bisogno dell'altro per realizzarsi come persona. Senza l'altro non si completa. Ed è bello quel che dice il testo, che l'uomo non provava vergogna di questa incompletezza nella Bibbia. La vergogna significa la sconfitta e il fallimento. Ecco, l'uomo di fronte a questa sua condizione non provava vergogna, cioè non la riteneva una sconfitta e un fallimento. La persona equilibrata è felice di avere bisogno dell'altro, di non essere autosufficiente. È chi vuol fare il superuomo che pensa di poter bastare a se stesso. Io non ho bisogno di nessuno, eccolo il superuomo. Dio ci ha fatti bene, ci ha voluti incompleti per costringerci a uscire da noi stessi a incontrare l'altro, a scambiare i doni con l'altro e quindi ad amare. Ci ha fatti per amare. Questa è la natura dell'uomo e la ragione di tutte le nostre diversità, perché noi abbiamo bisogno di ciò che l'altro ha e l'altro ha bisogno dei nostri doni. Ecco qual è la nostra natura di cui non ci dobbiamo vergognare la nostra nudità, la nostra condizione. E difatti nota bene il testo sacro. Dopo che è stato detto che Dio aveva visto che tutto era buono, che tutto era bello, per sette volte viene ripetuto questo ritornello nella Bibbia all'inizio. La prima cosa che Dio vede che non è buona è la solitudine dell'uomo. Non è bene che l'uomo sia solo, perché se è solo non si umanizza, non si realizza come uomo. Ecco il significato allora della sessualità, del senso che ha questa diversità che è l'immagine di tutte le diversità delle quali Dio ci ha arricchito, proprio perché ci scambiamo i nostri doni. La sessualità quindi non va identificata con la genitalità. La sessualità è molto più ampia, pervade ogni aspetto della nostra persona. È la pulsione che ci spinge a uscire dalla solitudine e a cercare il diverso da noi, a lasciarci coinvolgere quindi nella dinamica dell'amore, nello scambio di doni che ognuno possiede e che devono essere consegnati a chi ne ha bisogno. E quindi se un insegnante che ha il dono della scienza si trova di fronte agli allunni che hanno bisogno di questo dono, quando lui generosamente distribuisce il suo sapere realizza il senso che ha la sessualità, cioè la pulsione che viene da questa diversità. La genitalità, dobbiamo tenere presente, è solo un aspetto importantissimo della sessualità e questa genitalità, questo modo di realizzare la sessualità si realizza nel disegno di Dio in un contesto ben preciso, che è quello dell'amore responsale, che presuppone un impegno d'amore incondizionato, definitivo, esclusivo fra due persone. Ma non è indispensabile la realizzazione della genitalità per realizzarsi nella sessualità. Gesù ha realizzato pienamente la sessualità perché tutto in lui è stato dono, ma non ha esercitato la genitalità. Ecco, da questa natura dell'amore sponsale Gesù trae la conclusione. Dunque l'uomo non divida ciò che Dio ha congiunto. Ecco come il divorzio non rientra in questo disegno. Sullo sfondo ho messo ancora due ketuvot. Notate, su quella ketuvah ci sono due lettere ebraiche, gimel, gimel e tet, è la parola get che significa ripudio. I rabbini avevano notato che questa parola ripudio, get, nella Bibbia non esiste. Non solo. Ma queste due lettere, gimel e tet, in nessuna parola ebraica, si trovano una di seguito all'altra. Non solo. Avevano notato i rabbini che nessuna parola della Bibbia ebraica finisce con gimel e la seguente inizia con tet. Concludevano, Dio ha voluto evitare anche solo l'ombra del ripudio nella Bibbia. Bene, non è questione di indissolubilità quindi, perché questa si è posta come una norma che incatena le persone, non ha alcun significato. È la realtà dell'amore che per sua natura è incondizionato, definitivo, senza riserve, senza ripensamenti. È la possibilità che una coppia ha di contare sull'amore dell'altro, senza timori, senza incertezze, perché sa che sarà definitivo. Questo è il disegno del creatore. E quindi quella formula dell'amore che sentiamo ripetere fra gli innamorati. Ti amo perché ti voglio per me. Io ho bisogno di te. Ti voglio assolutamente guai a chi ti tocca perché sei esclusivamente mia, perché io ho piacere solo a stare con te. Ma il giorno in cui non mi dai più questa soddisfazione io ti cambio, ne trovo un'altra. Non è questo l'amore che entra nel disegno di Dio, così si comincia solo a pasticciare. La formula dell'amore progettato da Dio è diversa. Ti amo vuol dire che sono disposto a tutto, anche a dare la vita perché tu sia pienamente felice. E questa mia disponibilità a prendermi cura della tua felicità non verrà mai meno. Puoi contare pienamente sul dono di tutto me stesso. Questo è l'amore progettato dal creatore. Dopo aver compreso questo disegno sulla sessualità noi possiamo valutare se certi modi di vivere la genitalità rientrano in questo disegno oppure no. Non se è proibito o lecito, no, ma se è umanizzante un certo comportamento oppure se ti degrada. E allora partendo da questo disegno del creatore. Possiamo dire che certamente esulano dal disegno di Dio le avventure sessuali, il darsi disordinato. I mass media si compiacciono di presentare, di giustificare questi comportamenti, ma questi comportamenti provocano sempre drammi interiori, anche se si cerca poi di nasconderli, provocano confusioni, situazioni insostenibili, anche se chi è coinvolto si sforza di ostentare un'apparente felicità. Teniamolo presente. La sessualità non è un gioco. Costruire l'amore voluto da Dio è un impegno arduo per cui vanno evitati l'impazienza, la fretta. L'avventura estraconiugale rientra in questo progetto del creatore? Chiaramente no, è un tradimento dell'amore, impoverisce i protagonisti, non li arricchisce. La convivenza, semplice, fino a quando dura, i rapporti prematrimoniali. Rientrano oppure no in questo disegno del creatore? Non vogliamo giudicare, condannare, ma vogliamo solo capire ciò che è pienamente umanizzante e ciò che invece, anche se ci sono delle manifestazioni di amore, c'è sempre e comunque una scintilla di amore. Ma noi dobbiamo puntare al disegno pieno del creatore e dobbiamo dire che in questi comportamenti della convivenza, dei rapporti prematrimoniali, manca il coinvolgimento pieno e definitivo che è chiaramente presupposto nel disegno del creatore. Quando Gesù dice l'uomo sarà unito alla sua moglie e i due saranno una carne sola. È bello quel passivo del verbo impiegato da Gesù, proskolaumai in greco, è questa unione ed è messa al passivo, cioè l'uomo sarà unito alla sua moglie. Quel sarà unito è chiamato dai biblisti il passivo divino, cioè il soggetto. È Dio che unisce l'uomo con la sua moglie e i due diventano una carne sola. È in questo contesto che si realizza la sessualità umana che è anche espressa nella genitalità. Facile o difficile accogliere nella vita questo disegno di amore incondizionato voluto da Dio. Certamente è difficile da capire e da accogliere. È stato difficile anche per gli apostoli che sono stati con Gesù. Sentiamo la loro obiezione. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Di fronte alla posizione nitida assunta da Gesù sull'argomento del divorzio, non solo i farisei ma anche i discepoli sono rimasti molto perplessi perché nella catechesi. Loro avevano imparato che l'uomo non solo ha il diritto ma a volte anche il dovere di ripudiare la moglie, per esempio se non gli dà figli. C'è il primo comandamento di Dio è crescete e moltiplicatevi, se io non posso realizzarlo con questa donna la devo cambiare. Bene, con Gesù è giunto il regno di Dio ed è giunto il momento di dire basta a tutto ciò che non è in sintonia con il progetto del creatore. Quindi basta compromessi, meschinità, sotterfugi, bisogna puntare all'ideale che è proposto nella creazione. E allora Gesù non è che ha introdotto una nuova legge che è più severa di quella di Mosè, no, ha richiamato il progetto originario di Dio nel quale non è contemplato il ripudio. E adesso l'Evangelista Marco mette in scena dei bambini. Ci chiediamo ma c'entrano qualcosa con l'argomento che Gesù sta trattando? C'entrano e come? Sentiamo. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro. Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia li benediceva, imponendo le mani su di loro. Questa scena è riferita anche dagli evangelisti Matteo e Luca, ma soltanto Marco dice che Gesù ha preso fra le braccia questi bambini con grande gioia delle mamme, che i discepoli però hanno cominciato a scacciare perché facevano perdere prestigio al loro maestro. È l'unica volta che viene impiegato nei Vangeli il verbo aganacteo per dire la rabbia che Gesù ha provato, si è indignato con i suoi discepoli. E difatti dà un messaggio molto importante. Dice, soltanto chi assume l'atteggiamento del bambino può accogliere il regno di Dio. Il bambino non ha nulla di proprio, tutto riceve dal padre e lo riceve con fiducia piena, si fida dell'amore del padre. Ecco, dice Gesù, il bambino che è modello di chi accoglie il regno di Dio fidandosi dell'amore del padre del cielo. Nel contesto del messaggio del brano evangelico di oggi viene opportuno questo richiamo al modo con cui noi siamo chiamati ad accogliere con fiducia piena ciò che il padre ci dice. I ragionamenti umani riguardo alla sessualità possono portare a giustificare tanti comportamenti che esulano dal disegno di Dio, perché il buonsenso umano, i nostri criteri possono giustificare tante cose. Mettiti di fronte alla proposta che Dio ti fa con la fiducia del bambino, fidati di lui perché vuole la tua vita. La metà che ci viene proposta è altissima, ma sappiamo che i passi degli uomini sono sempre piuttosto incerti e Dio capisce la nostra fragilità. Ed è a questo punto allora che deve entrare la pastorale, cioè il saper accompagnare le situazioni concrete in cui si viene a trovare ogni nostro fratello, un fratello che nessuno può mai giudicare, qualunque sia le scelte che lui ha deciso di fare. E ci si accosta sempre al fratello cercando di capirlo, di accompagnarlo, di ottenere il massimo nella condizione in cui lui si trova. E mostrarsi comprensivi e pazienti non significa che stiamo ammorbidendo le richieste e le esigenze evangeliche oppure adeguarsi alla morale corrente. No, ma è mostrare saggezza e soprattutto mostrare amore per le persone che stanno vivendo delle situazioni difficili e sempre molto dolorose. auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.